Il 2 giugno purtroppo è la data in cui è morto l'eroide di un buon di Giuseppe Garibaldi, ma è anche il coronamento di un pensiero, quello garibaldino, che è la festa della Repubblica. E lui è stato uno dei primi repubblicani perché la Repubblica Romana è stata per lui un impegno molto gravoso, è costato molti sacrifici e si parte da lì perché anche la nostra Costituzione molti punti vengono ripresi dalla Repubblica Romana di Garibaldi e i Mazzini. Per cui oggi per noi è un giorno molto importante. Era il 2 giugno del 1882 quando Giuseppe Garibaldi morì nella sua amata caprera. In occasione della festa della Repubblica a Montevarchi, in piazza Garibaldi, l'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini ha celebrato la ricorrenza nel ricordo dei 140 anni dalla dedica dell'obelisco della città a Giuseppe e Anita Garibaldi. I monumenti come questo servono per ricordare determinati personaggi, come appunto Giuseppe e Anita Garibaldi e quindi è importante per la cittadinanza fare eventi come questi perché è a questo scopo che erano eretti i monumenti, cioè ricordare. Generale Giuseppe Garibaldi, grand'uomo, un uomo di sfiducia, partiva, andava, bastava un biroccino che girava tutta Italia e dove lo chiamavano andava facendo delle battaglie e le vinceva tutte lui. Aveva un grande spirito. Persone come per me, persone come noi oggi non ce ne sono, magari. È una figura trasversale che unisce il popolo anche con i vertici e questo è servito proprio per fare dell'Italia di allora frammentata un paese unico che ancora oggi esiste e che oggi soprattutto finalmente è democratico e repubblicano.